Su dei giri amici sportivi e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica videorubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete che rapporto hai con Luca Franchini nella vita di tutti i giorni? Beh, Luca Franchini il Godzilla lo conoscete, è il mio compagno storico di Telecronaca, abbiamo iniziato insieme negli studi di stream ormai più di 16 anni fa e oggi siamo ancora qui su Sky Sport dopo una lunga cavalcata a tenervi compagnia. Che vi piaccia o meno, noi ci siamo, a parte gli scherzi. E ovviamente se ci seguite da tanto tempo o sin dagli albori, vi sarete resi conto che abbiamo caratteri e personalità un po' diverse. In Telecronaca noi giochiamo su questo portando all'infinito le nostre debolezze umane e le nostre forze umane. Quindi io sono ignorante con le donne e nella vita sono molto timido, ma non sono così ignorante come sembro in Telecronaca. E sono mostruosamente colto, anche se in realtà nella vita reale lo sono molto di meno di quanto lo faccia apparire. Sono un nerd spropositato e in effetti lo sono. Mi piacciono i fumetti, mi piacciono per davvero. Mi piacciono i giochi, i giochi di scatola, i giochi di carte collezionabili, Magic. Io Magic gioco veramente, mi fa impazzire, è bellissimo. Leggo un sacco di libri, quello è vero, andando sul lato un po' più letterario, aristocratico, un po' più culturale e effettivamente la mia vita è decisamente più sedentaria di quella di un Godzilla che invece adesso si è un po' tranquillizzato, che però insomma è sempre pieno di stimoli, di idee. Uno che ha la sua Harley, va in giro, è tatuato, ha un sacco di amici, ha un sacco di conoscenti, è uno che ama parlare, interagire col prossimo, mentre io sono un po' riservato. Luca non è così, insomma, arrapato come fa in telecronaca, anche lì lo sta sportando all'infinito, non è così ignorante come fa a sembrare in telecronaca, ma quelli sono i nostri pregi, i nostri difetti che collaborano per creare poi il mix che spero vi intrattenga di tanto in tanto tra una telecronaca e l'altra o durante le stesse quando serve magari metterci qualcosa per tenere sveglio l'umor e l'attenzione. Che rapporto ha con Luca? Decisamente blando, ci frequentiamo il minimo sindacale, proprio perché siamo molto molto differenti e quindi non è che ci sia inimicizia o niente di che, però vedendoci già mediamente 8-10 ore al giorno è normale che dopo un po' ognuno debba ritagliarsi i suoi spazi legati anche ai suoi interessi, quindi Luca andrà a farsi il suo giro con la moto, uscirà con la sua compagna, con i suoi amici, andrà alla tattoo convention, andranno a vedere dei negozi, avrà i suoi giri a casa con i videogiochi con le automobili, io avrò i miei amici, ho le mie partite a magic, i miei giochi di ruolo, i miei bei libri che leggo, e quant'altro, i miei fumetti, uscirò con i soliti amici che ho da una vita, quelli che avevo anche quando non lavoravo in tv, e starò con una cerchia ristretta di persone con le quali fare poche cose, ma cicliche, abitudinarie, ma sempre piacevoli. Quindi per stringere non c'è un grande rapporto tra di noi proprio perché siamo diversi, non come il giorno e la notte, ma completamente differenti, per desideri, piacevolezza, carattere, modo di fare. Credo di aver risposto a tutto, oggi la risposta è molto molto semplice, ma insomma credo che anche voi da casa abbiate capito che stiamo bene in telecronaca, la nostra diversità è la nostra forza, ma poi per via dei caratteri e anche dell'età insomma che abbiamo per le esperienze personali, ognuno di noi cerca di svagarsi e di staccarsi dall'altro, giusto per avere la sua vita privata, soggettiva, personale, libera da qualsiasi altro intralcio. Poi quando si lavora, tac, si accende la lampadina, scappa, scatta, scappa no, scatta la magia e si fa quello che ci riesce meglio, almeno speriamo, ovvero vi si intrattiene. Uff, direi che siamo arrivati alla fine, oggi pochi minuti, ma se vi va, Dietaro 20, qua sotto, aspetto le vostre opinioni sul rapporto tra me e Godzilla, su come vi sembriamo, su che idea vi siete fatti di noi attraverso le telecronache ed eventualmente attraverso la nostra attività. Avanti, Dietaro 20, commenti educati, li voglio proprio leggere. Intanto grazie per l'attenzione, noi ci vediamo sempre e solo qui con Chiedi al Bardo. Ciao!